Ciao ragazzi, benvenuti su Orologi Express, io sono Francesco ed oggi con questo video in esterna parliamo del Gleisin Airman Purist DC4, referenza GL0072 del 2015, uno degli ultimi orologi entrati a far parte della mia collezione. Come sempre, prima di iniziare vi chiedo un like se i contenuti vi piacciono e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Il Gleisin Airman nasce in 1953 dalla mente dell'allora CEO dell'azienda che volando a bordo di un DC4 da Bangkok a Calcutta chiacchierando con il comandante chiese che tipo di orologio sarebbe stato utile per il tipo di operazione dei piloti. Operazioni allora del tutto nuove anche nel settore aeronautico, dato che si iniziava a volare per diverse ore su rotte intercontinentali attraversando diversi fusi orari. Le funzioni in questione che ovviamente troviamo in questo orologio, che è una riedizione contemporanea dell'originale, sono un quadrante con indicazione delle 24 ore e la funzione GMT, che in questo caso è riservata alla ghiera girevole bidirezionale. Queste funzioni erano e sono tuttora utili per distinguere le ore diurne da quelle notturne e per tenere sotto controllo due fusi orari e contemporaneamente, dove il GMT in particolare è il fuso orario di riferimento per le operazioni aeronautiche. Per quanto riguarda il corredo vi mostro giusto un paio di foto in quanto è piuttosto semplice e basic. L'orologio misura 42 mm di diametro, 50 mm di lug to lug per via delle anse molto sporgenti, 12 mm di spessore ed ha un passo del cinturino di 22 mm. Non sono dimensioni ridotte, ma per un pilot watch con doppio fuso orario, complicazione data e 200 metri di impermeabilità direi che sono del tutto giustificate. Anche perché inizialmente, se non ci siete abituati, ci dovrete far l'occhio alla lettura su un quadrante da 24 ore. Come riferimento per le misure sappiate comunque che il mio polso misura circa 17,5 mm. L'orologio presenta un bel vetro zaffero leggermente bombato con trattamento antiriflesso e lente magnificatrice sulla data. Gli indici e le scritte sono tutti stampati sul quadrante ed il disco data presenta tutti i numeri di colore rosso. Un bel tocco di personalità a mio avviso. Su tutti gli indici del quadrante e su tutte le lancette è applicata la superluminova per una più che discreta leggibilità notturna. Come detto, la ghiera è girevole e bidirezionale e senza scatti. È interamente satinata ed il suo azionamento è protetto dal meccanismo di blocco attuato dalla seconda corona d'ore 4. La corona d'ore 3 invece comanda il funzionamento dell'orologio ed è, su questa referenza, fortunatamente a vite. Ragazzi del Glycine Airman ne sono state fatte innumerevoli di referenze e per qualcuno probabilmente anche di più simili all'Hermen originale rispetto al mio o migliori di questo per quanto riguarda le misure. Ma per me un orologio moderno, così sportivo e versatile, per quanto un Pilot Watch non nasca per andare in acqua, è inconcepibile che venga proposto con corona, pressione ed una resistenza all'acqua di 1, 3 o 5 atmosfere. E per questo motivo in primis che non ho acquistato le referenze più recenti, ed ho pazientato per trovare questa nello specifico ad un buon prezzo, seppur come usato. Il fondello è anch'esso a vite ed a vista, con un vetro zaffero a protezione del calibro. Quest'ultimo è il GL293, ossia un salita SV330A1, con il bellissimo rotore di carica personalizzato per Glycine con il disegno di un aeroplano, che per chiarire non è un DC4 comunque, o eventualmente potrebbe essere una parte del DC4 sia il profilo dell'ala con uno dei quattro motori dell'aeroplano, ma di questo non ne sono sicuro. Il meccanismo è dotato di 25 gioielli, 42 ore di riserva di carica, fermo macchina e ricarica sia automatica che manuale. I lati della cassa e delle anse ed il fondello sono interamente lucidi, e ciò porterà inevitabilmente ad accumulare dei graffi su di un orologio così versatile, ma in questo caso è un dettaglio che tutto sommato apprezzo, in quanto rispecchia l'eleganza e la qualità percepita su questo orologio Swiss Made. Questo Airman viene venduto con un cinturino nato nero di buona qualità, che trovo molto azzeccato e funzionale per il tipo di orologio, nonostante come saprete se mi seguite, di solito preferisco i bracciali in acciaio, la fibbia in ardiglione e riporta la scritta Airman. Ragazzi, non so dirvi di preciso quale fosse il prezzo di listino di questo orologio, anche perché di solito i prezzi di listino Glycine sono generalmente molto più alti degli effettivi prezzi di vendita anche sui loro canali ufficiali. Questa referenza in particolare ha una quotazione su Crono24 ad oggi, giugno 2022, tra gli 800 e i 900€, ovviamente a seconda della provenienza, del corredo e delle condizioni dell'orologio. Secondo me è un prezzo piuttosto corretto, nonostante sia quasi equivalente al prezzo di vendita dei nuovi Airman sul sito Glycine stesso, dato che comunque è una referenza fuori produzione ed abbastanza ricercata. Beh ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo orologio nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!